Riscontro positivo per l'incontro tra Carmen Guarino, direttrice dei centri Rete Solidale e il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato per affrontare i problemi abitativi del quartiere del Monte Vescovado. Il direttore di Rete Solidale, dopo aver visitato nelle scorse settimane il quartiere ed aver ascoltato le stanze dei suoi abitanti, ha rappresentato al sindaco l'urgenza di procedere ai lavori di riqualificazione e di manutenzione di tutte le palazzine fatiscenti facenti parte del quartiere e di risolvere il contenzioso in atto che impedisce la realizzazione di nuovi edifici che possano ospitare definitivamente le famiglie colpite dal sisma del 1980. Il sindaco ci ha accolto e sono state come fondazione in rappresentanza anche con i cittadini del Vescovado che sono ritornate a fare visita e il sindaco si è impegnato a fare questa gara d'appalto per 400.000 euro circa 20.000 euro a palazzina per la copertura e quindi evitare le infiltrazioni piovose negli appartamenti e migliorare la qualità di vita delle persone. L'impegno è che potremo controllare sulla pagina ufficiale del comune nel punto dei bandi e con la speranza il sindaco ci ha confermato che per settembre i lavori inizieranno noi vorremmo sollecitare una riduzione dei tempi perché questi sono lavori che si fanno quando non piove quindi quando il tempo consente di fare lavori esterni quindi speriamo che all'inizio dell'estate i lavori possano iniziare.